Ciao a tutti, oggi è più che mai chiaro che il problema per fare un governo del cambiamento non ero io e non era l'impuntatura su Di Maio Premier, perché ieri ho detto chiaramente una cosa che la Lega sapeva da settimane, che io ero a disposizione per trovare un Presidente del Consiglio Comune per creare un governo del cambiamento, Movimento 5 Stelle Lega, su un contratto che prevedesse tre cose su cui non potevamo e non volevamo arretrare, reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero, una legge anticorruzione, ovviamente insieme a tanti altri temi importanti come il taglio delle tasse. Su questo abbiamo lanciato l'ultima proposta ieri e oggi ancora una volta il centrodestra di Salvini, Berlusconi e Meloni si è ripresentato unito a chiedere un mandato per andare in Parlamento a cercare i voti, cioè rispetto alla scelta di un governo del cambiamento in cui il Presidente del Consiglio lo sceglievamo insieme a Salvini, Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi. Ma soprattutto oggi quello che ha chiesto evidentemente al Quirinale, da quello che dobbiamo dedurre quando chiedono un mandato per andare a cercare i voti in Parlamento, è di formare non un governo del cambiamento del centrodestra, ma un governo dei Volta Gabbana, un governo della compravendita dei parlamentari, evidentemente, un governo dei traditori del mandato politico nella migliore delle ipotesi, è questo quello a cui stiamo assistendo. Ancora una volta una scelta di interessi interni alle forze politiche, una scelta di questioni di coalizioni finte nate solo per la campagna elettorale e nessuna premura per gli interessi del Paese, per la stabilità del Paese, quali sono le conseguenze di questo cinismo elettorale delle forze politiche che pagheranno probabilmente in termini elettorali, uno che c'è il rischio di un governo tecnico e vedremo chi lo voterà questo governo tecnico, lo dicano apertamente tutti quelli che in questi mesi hanno detto no al Movimento 5 Stelle su un contratto, su punti chiari, perché poi sono disponibili a votare un governo tecnico alla Monti che ancora una volta non capirà le esigenze delle persone perché non è mai stata a contatto con la popolazione come ci stiamo noi ogni giorno ormai da anni nelle piazze a parlare con la gente, a ascoltare i loro problemi, a fare proposte per i grandi problemi del Paese. E la seconda conseguenza saranno le elezioni, elezioni in cui io sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno, ma deve essere chiaro che in queste elezioni tutte le forze politiche, i partiti si dovranno assumere la loro responsabilità ancora una volta di aver pensato ai loro interessi anziché all'Italia, alla nazione, si sono riempiti la bocca continuamente di una serie di frasi con la loro retorica, vogliamo aiutare le persone, la qualità della vita. Poi quando era il momento noi abbiamo dato la disponibilità a dialogare con gli altri e gli altri erano disposti a dialogare con tutti, anche con i Volta Gabbana, solo con noi non erano disponibili. E allora deciderà il Presidente della Repubblica che tra l'altro in questo momento ha ancora in corso le consultazioni, ma per noi si può andare a votare subito, la prima data utile può essere anche l'8 luglio e noi da oggi, io vi dico, ci mettiamo in campagna elettorale e andiamo a raccontare agli italiani questi due mesi di bugie e di cinismo delle forze politiche e sono sicuro che questa volta gli italiani ci daranno il segnale forte e daranno un segnale fortissimo alle altre forze politiche per farci governare da soli, dopo tutto eravamo dati al 29% nelle ultime elezioni politiche e invece siamo arrivati al 33%, adesso siamo dati al 35%, il 40% è a portata di mano, andiamo a governare da soli perché questi signori hanno dimostrato non solo di non essere responsabili, ma di volere una sola cosa, che il Movimento 5 Stelle non arrivi al governo e allora siccome io so che i partiti non vogliono che il Movimento vada al governo, chiedo ai cittadini di mandarci al governo, lo so che vi chiedo un grande sacrificio per andare di nuovo a votare, ma non vedo altre possibilità, ce l'abbiamo messa tutta, adesso la parola deve tornare a voi. Ciao a tutti!